Dagli Atti degli Apostoli In quei giorni, rimessi in libertà, Pietro e Giovanni andarono dai loro fratelli e riferirono quanto avevano detto loro i capi dei sacerdoti e gli anziani. Quando udirono questo, tutti insieme innalzarono la loro voce a Dio, dicendo Signore, Tu che hai creato il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che in essi si trovano Tu, che per mezzo dello Spirito Santo dicesti per bocca del nostro Padre, il tuo servo Davide perché le nazioni si agitarono e i popoli tramarono cose vane si sollevarono i re della terra e i principi si allearono insieme contro il Signore e contro il suo Cristo Davvero in questa città, Erode e Ponzio Pilato, con le nazioni e i popoli di Israele si sono alleati contro il tuo santo servo Gesù, che Tu hai consacrato per compiere ciò che la Tua mano e la Tua volontà avevano deciso che avvenisse E ora, Signore, volgi lo sguardo alle loro minacce e concede ai Tuoi servi di proclamare con tutta franchezza la Tua parola stendendo la Tua mano affinché si compiano guarigioni, segni e prodigi nel nome del Tuo santo servo Gesù Quando ebbero terminato la preghiera il luogo in cui erano radunati tremò e tutti furono colmati di Spirito Santo e proclamavano la parola di Dio con franchezza Beato chi si rifugia in Te, Signore Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano in vano insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e il Suo consacrato spezziamo le loro catene gettiamo via da noi il loro gioco Beato chi si rifugia in Te, Signore Ride colui che sta nei cieli Il Signore si fa beffe di loro Egli parla nella sua ira Li spaventa con la sua collera Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion Mia santa montagna Beato chi si rifugia in Te, Signore Voglio annunciare il decreto del Signore Egli mi ha detto Tu sei mio figlio Io oggi ti ho generato Chiedimi E ti darò in eredità le genti E in Tuo dominio le terre più lontane Le spezzerai con scettro di ferro Come vaso di argilla Le frantumerai Beato chi si rifugia in Te, Signore Dal Vangelo secondo Giovanni Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo Uno dei capi dei Giudei Costui andò da Gesù Di notte E gli disse Rabbi Sappiamo che sei venuto da Dio come maestro Nessuno infatti Può compiere questi segni che tu compi Se Dio non è con lui Gli rispose Gesù In verità In verità io ti dico Se uno non nasce dall'alto Non può vedere il regno di Dio Gli disse Nicodemo Come può nascere un uomo quando è vecchio Può forse entrare una seconda volta nel gremo di sua madre E rinascere Rispose Gesù In verità In verità io ti dico Se uno non nasce da acqua e spirito Non può entrare nel regno di Dio Quello che è nato dalla carne è carne E quello che è nato dallo spirito è spirito Non meravigliarti se ti ho detto Dovete nascere dall'alto Il vento soffia dove vuole E ne senti la voce Ma non sai da dove viene Né dove va Così è chiunque è nato dallo spirito E ne senti la voce